ehi la ciurma io sono mazzatessa e ben ritrovati qui su expeditions roam allora nella scorsa episodio abbiamo scoperto che di robbie non basta quello che abbiamo ottenuto per cui dobbiamo andare a distruggere il contratto che avevano il problema che tutto questo era è fin qua giù e andiamo speriamo che possa risolvere la situazione perché siamo ancora in territorio completamente nemico e qui la questione potrebbe complicarsi va bene allora prendiamo i nostri cari amici Giulia e poi di altro chi che prendiamo il sagittarius o il triarius questo ripristinava al tizio andiamo con questo dai come si chiama? Ranius Rebilus Ranius Rebilus spero noi due siamo di famiglia nobile e Flank non è facile posizione ma abbiamo l'elemento di sorpresa noi siamo sicuramente usati bene mi sembra totalmente oblivenuti qual è il punto di erettere le tue guardie se non posti una guardia bella domanda ha messo delle torri di guardia ma non c'è nessuno che controlla non si può passare da altri posti se non di qua ma siamo pazzi? siamo contro tutta questa gente? non sarà facile no beh sono mediamente scarsini però cavolo allora metterei lui qua Giulia si l'ha nascosta Pineros alterati con bestia vada così allora lei credo che non possa pigliare nessuno perchè sono tutti coperti allora uff poi e cannot see target ah perchè c'è l'altro domanda aspetta prendi un attimo l'altro Ranius 5-9 6-7 ottimo buono eh puoi andare con questo qua si ok ok allora quello io andrei con non ci arriva cavolo per un movimento solo ehm allora aspetta tu togliti un attimo dai piedi perchè credo che non puoi ehm aiutare più ulteriormente lui non ci arriva proprio là no e io ci arrivo invece sì sì allora andrei su questo che non ha protezione che mi dà un attacco in più ok 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 gli abbiamo tolto lo scudo non è servito molto ma almeno ehm abbiamo possibilità di muoverci allora lei non vede nessuno per ora però vediamo un attimo cosa riusciamo a fare allora là no quello non lo vede neanche ma domanda se fai un passetto indietro invece l'altro lo pigli no ehm da qua lo vede ma non lo tira comunque giù e il quick shot ne da due vai ottimo grande Julian eeeh non posso farla retrocedere più di tot per cui niente metterei solo lui davanti magari in modo da parare un po' e fai un brace su te stesso Sineros lo lascerei qua per ora visto che eeeh non li piglia tutti ma non vorrei allontanarlo troppo va muoviamo qua vai e poi torna indietro eeeh qui in realtà non so per quanto duri eeeh non credo tanti turni aia che casino eeeh eeeh ho capito cos'è sta roba ma siamo patti? venite pure nel fuoco dai che ve ne pare c'è gente tosta chi è questo qua di livello 5 eeeh allora iulia io farei che tu che puoi magari tira giù un paio di persone eeeh gli altri non li vede allora facciamo che non ha grandi possibilità ma è meglio che niente ok e poi vattene dietro arretrevo tutti direi no si è bruciato di nuovo porca miseria beh se non ha messo per niente bene allora sineros può curare procura cosa fa? toglie solo burning allora aspetta facciamo che swappa e fai aid no soft pain non deve aver perso vita ma ha perso vita scusami non ha perso vita sta solo bruciando ah 11 su 11 è vero solo lui ha perso vita ma però cos'è che ha ancora? ah bruciata quindi a meno maximum health eeeh toglielo allora toglielo allora e ti ubriamo il mio data troppo torna qua allora io avevo dell'acqua forse ancora no ho delle bende acqua non abbiamo messo no assolutamente no La larchera è abbastanza riparata Tra le due posizioni Non mi piace Metterei bestia qua dietro Perché ho un po' timore Di cosa possa succedere Chico non ha fatto azioni Allora lui non ha fatto Ah Inspire Aspetta diamo un Inspire a Sineros Così può curare ancora magari Ah cannot reach target Porca miseria Perché l'altro si è spostato L'abbè finito anche le azioni Aspetta Julia tu riesci a spostarti Un attimo Tu Sineros riesci a No Bestia Si bestia può muoversi Fortunatamente Non era un'azione sprecata Ok Ok Vedete insomma Mi diventa messi bene Tranne Che però posso Fare niente in realtà Posso tutte le bende Ma rimuovere solo bleeding No lo tira su Capperi Vi stanno stabilizzando tutti Porca miseria Cavolo bruttissima situazione Pure Allora bestia Fai che spostarti qua Un attimo Ah Julia può Fare qualcosina di più Ma c'è Sto cavolo di fuoco In mezzo ai piedi Vediamo se riesco A muoverla E poi Toglierla Teoricamente dovrebbe riuscire A Quickshot Su questo Quickshot Su quello Cavolo Non ha tirato su solo uno Barbed Ok Ah però non ha più l'azione Perché quella non era No E non posso tornare indietro Non ha abbastanza azioni Per tornare indietro Resta qua allora Please Cavolo faccio Prende un sacco di fuoco Se va là E ho bisogno Per forse prendere Dall'acqua da qua Che vai tu Che vai tu Riesi Poi ancora Fare qualcosa Magari Vai 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 su questo Non lo tira giù Però almeno Facciamo qualcosa Allora Con lui Aspetterei Questo Non ci arriva Però vai a prendere Dell'acqua Magari che Male non fa Ah può fare flurry Ok meglio che niente Io non riesco a raggiungere nessuno Prendi dell'acqua Che male non fa Non c'è più acqua Ah non ci arriva qua Allora mettiti qua Tu sei un minimo protetto Allora lui Passa qua Sino l'oscura Rimuove burning E anche burned Dovrebbe anche Fixargli la vita massima Sì 10 su 19 Ah posso anche curarlo Allora Benissimo Ok Riesci a picchiare qualcuno No Assolutamente no Per cui andiamo a fare di prendere No Aspetta vai qua Poi vai qua Non riesci a prenderla l'acqua Non Ah no questo Ah può distruggere Ah ok Niente avrei dovuto distruggere Con Julia Calida Allora Mettiamo il tizio qua Ehm Nulla Ahia di nuovo al fuoco Siete stupidi Per essere aspettati E noi vi tiriamo giù Tutti gli altri Intanto Ah Me lo tirano giù No Me lo tirano giù Capperina Ehm Ah quella ha pochissima vita Per cui facciamo che Concentrarci su Mmm Scusa multiple target Ma Meglio andare diretto Allora Sineros Meglio che Togli il burned Ah perché non può farla Ah le ho usate tutte Porca pupazza Ehm Nulla allora Riesce a fare aid Su Quello Dopo posso ancora curarlo Vè No No non posso curarlo Allora Ehm Diciamo così Lui ha il Slash Doveve tirare giù Entrambi Ottimo Benissimo Emo lo muovo qua Tu bestia Riesci per caso a Questo puoi No è già stabilizzato Ma non posso curarlo Però Posso perlo risorgere Insomma Diciamo Ehm Questo cos'è che ha Medical crate Ah però Ho già l'acqua Quindi non può fare niente Allora Io ho paura Di questo Oil barrel Poi mi dà un fuoco Tutto Oh Facciamo che Spaccare questa roba qua Se è possibile No Aspettiamo un attimo Aspettiamo un attimo Non abbiamo fretta Allora Julia Non può essere curata Però può andare a Pizzicare quel tizio Ah Hai No Ok Dovrebbe scioglierla Grande Bravissima Julia Ci dà sempre Le grandi soddisfazioni Ehm Però non può più muoversi Lui non ha più niente a fare Rimane solo bestia Bestia Che cavolo vai a fare Bestia Ah non ha più Tactical item Eh Pappero Killing incapacitated target Non mi interessa Killing incapacitated target Ahia Allora dov'è Sineros Adesso che ci serve Ah lui che ha ricevuto il danno L'altro Non possiamo tirarlo su No Perché abbiamo bisogno di Altra roba Ehm Propriamente non posso toglierglielo a Julia Allora tu prendi Un bandage Giugio giugio che sei Eh no Vabbè non usiamolo adesso Vai ad attaccare No non ci arriva Allora niente Allora niente Aspetta un attimo Muoviamo Ah bestia Ha già attaccato No ha attaccato il giro di prima Eh vai qua Bestia Attacca qua Ok niente Attacca bro Eh Vai su questo Ottimo Così possiamo muoverci Ma poi facevamo fare anche il giro In realtà Andrei qua Sperando che non rompano il barile dell'olio Perché sono assunguare Ma quello non dovrebbe avere frecce incendiarie Credo Ehm Lei se va qua su Lo vede l'altro Sì Proviamoci Non è messa benissimo Però Cos'è che ha point blank Ah ok Ci possiamo provare Beh uno è andato comunque dai Resta lassi dai No chi è che hai azioni Non ho spese Ehm Ma fai anchor down Aia Ti avrei scommesso Chi è che aveva l'acqua qua Lui Però hanno perso un sacco di vita Per sta roba qua Ah Julia Intanto tu Potete tirare giù questo Nooo Si è messo in cover Porca miseria Quindi non lo vedo più Porca paletta Ehm Allora lui può curare però Molto poco ma può curare Allora aspetta Facciamo rumore fin qua Poi dopo vediamo gli altri Perché non vorrei Andare troppo veloce E poi non avere Modo di fare cose Lui ha ancora i movimenti Per cui lo manderei qua Julia può muoversi Lui può muoversi ancora di un pochettino Ma non serve Ma non serve a granché Ehm 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 Julia il problema è che là È molto esposta Diciamo anche farla scendere Di qua Dai Lui dovrebbe essere riparata Dal tizio Se non altro Vestia può fare delle cose Sì ma niente Che posso servirci 24 minuti sono già I combattimenti Mi sembrano molto più lunghi Qua rispetto al Basta Cosa fiamme Cos'è Ma siamo pazzi Ma che cavolo Fortuna che ho preso l'acqua Con tutti Perché sennò Oh Non riesco neanche a curare tutti Però Stine rossa rimane la Dolorante Può curare qualcuno Sì forse sì Ma non ha del tutto senso Questi sono tutti scudati E più o meno Allora Andiamo prima con lui Che ha lo slash Vai qua Così ne prende due insieme No Dai Non gli ha fatto niente Ma siano seri Ah sta deflettendo tutto Perché c'è la super mega power Della vita E lui non può fare un cavolo di niente Zero per cento Zero per cento Zero per cento Non puoi fare nulla Perché ho sprecato Quello che va Delle cariche Sono stupido Non puoi curare Te stesso Vai sull'altra Che almeno Raggiungendo Due caselle No Non di là Però Scusa Qua Perché non si E due caselle Vabbè niente L'altro è rimasto L'ha Bloccato Vabbè Ah però aspetta Io avevo la furina Qua Sì ho preso più danno Di quello che Mi sarebbe servito Perché sono stupido Quello è sempre Trincerato Aspetta Ci sono dei punti In cui posso vederlo Mi era sembrato Di aver visto Un punto In cui si vedeva Tanto Qua Della freccettina È molto Eh sì Ok Qua Ma Adesso qua sotto Non lo vedo mai No Corri là Giulia Ci sono quei tizi Che lanciano Plasma Cuso Liquido Che cavolo Bestia Anche non può fare niente Aia E sì Non lo schibrucia Quello Mi sa Ok Ciao È stato un piacere E dire che aveva anche il L'interruptor Ma non gli è servito niente E gli ha tirato solo sullo scudo E giù lo scudo Lo tiriamo giù Proviamo Con il backstab Ok Precise 4-6 Sì Vai Tineros Non sta messo Benissimo Però Meglio che Curi lui Che ha messo Molto 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 E aspettiamo Aia Ok Dovremmo essere sereni Adesso Allora Giulia Vedi qualcuno Ecco Vieni qua Bravissima Qui si è vicino A tutti Allora Uno E No Quello è Ah Sì Super scudato Vabbè Tira giù questo Cavolo Ma possibile Fai Fai Piercing Quanta cavolo Di vita C'ha Sto Quanta vita Quello Sette Forse Meglio che Curo Eh Niente Non riesco Neanche a curarlo Il tizio Aspetta Allora Muoviamo lui Qua Poi Sineros Vai a curare Bestia Eh Sta arrivando A posto Ah lui ha ancora un Un attacco Aia Beh dai dovrebbe essere andato Giulia per piacere Su giro Oh Certe volte regala delle grandi soddisfazioni Certe volte invece è un corno Ho preso una brutta ferita con l'altro tizio Ah già perché dovevamo Dovevamo attaccare questi per rubare Loro le divise Per poi solo a quel punto andare ad attaccare gli altri Per prendere la roba Non mi uccidere Ti dirò tutto C'è un Password Diciamo In parola In codice per entrare nel campo di metridate Ok Ok Che Che Ma 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 Fine Va bene Va bene Non so se posso fidarmi Mi spiace Mi spiace ragazzo mio ma Rischiamo davvero tutto Non possiamo semplicemente prenderlo come prigioniero Scusate In tutto ciò O gli diamo mille mila milioni di soldi Oppure lo ammazziamo Vabbè diamogli mille mila milioni di soldi Non lo so Noi Non lo so Non lo so Noi Scusate Perché Scusate In modo incredibile Mille denari Sono tantissimo Tra l'altro Non so come riusciremo a recuperare quella cifra L'A In qualche modo Vabbè facciamo che saccheggio È già passato parecchio tempo Resto io qua a saccheggiare Ci vediamo nel prossimo episodio Io vi invito come al solito Lasciate un mi piace Un commento Iscrivetevi per caso Non è stato già fatto Ciao a tutti Buona giornata Ciao a tutti